Benvenuti alla SIAF, Scuola Internazionale di Alta Formazione di Volterra. Voluto dalla Regione Toscana in collaborazione con il Sant'Anna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, dal 2006 la scuola si rivolge soprattutto ad un mercato nazionale per quanto riguarda la formazione e l'avvicendamento tecnico nel settore industriale, nel settore farmaceutico. Numerose sono le collaborazioni anche con aziende di rilevanza internazionale appunto. Per quanto riguarda il campus con gli allievi, con discenti stranieri, la collaborazione che ci vantiamo di avere è con le università americane. L'attività estiva che abbiamo ripreso in collaborazione con un promoter nazionale, il Language Team, con Alchedo per quanto riguarda la parte tecnica, è un impegno che vede presenti nella struttura oltre 80 ragazzi. Welcome to the Innovation Learning Campus at the International School for Advanced Education. Quello che diciamo a tutti gli studenti che barcheranno fino al 22 di agosto i cancelli della Scuola Internazionale di Alta Formazione di Volterra. L'Innovation Learning Campus è un concept assolutamente innovativo che si basa sull'insegnamento delle tecnologie in lingua inglese. I ragazzi affronteranno laboratori di storytelling per la conoscenza del territorio, così ricco di storia, di cultura, di tradizione, attraverso l'utilizzo di gaming, hologrammi, realtà aumentata. Non mancheranno attività sulle biotecnologie e neanche sull'insegnamento della robotica attraverso piattaforme di programmazione come Arduino. Offriremo anche programmi culturali in parallelo alle famiglie, qualora lo volessero, proprio perché ci basiamo su una ricchezza del territorio particolarmente vasta. Quello che vogliamo offrire agli studenti fondamentalmente è un approccio continuativo sui nuovi asset, che sono appunto le tecnologie e la lingua inglese, utilizzati in un insieme di attività laboratoriali, esperienziali e emozionali, che dovranno caratterizzare il futuro dell'apprendimento a prescindere dai singoli indirizzi di studio. Inoltre, SIAF offre insieme alle escursioni di tipo archeologico, quello che è il progetto che vede insieme Fondazione Cassa di Risparmio e la Diocesi di Volterra per il progetto Anima di Volterra, per una visita guidata al centro espositivo della Fondazione, il Battistero e la Cattedrale, che ha avuto di recente un restauro importante. Poi il teatro Persio Flacco, uno dei teatri più antichi della Toscana, un esempio di teatro all'italiana, dove attualmente vi è una mostra, Locus Amenus, che è un cammino in tutte le stanze del teatro, passando dalla pittura contemporanea, il risorgimentale e la scultura, la pietra. Ecco, questa pietra è importante per Volterra, non solo medioevole. Vorrei ringraziare il SIAF e il Language Team per l'opportunità offerta e per le esperienze che sicuramente porteremo con noi per la nostra professionalità futura. Anche io voglio ringraziare tutti, perché quelle classi sono veramente interessanti. Alcune delle classi sono in inglese e molte sono basate in IT. Quindi stiamo apprezzando molto sull'Arduino e la storia, e è qualcosa che mi piace molto fare nel futuro, e sono davvero felice per l'opportunità. Ok, ringrazio il Team Language Team e il SIAF per questa opportunità, perché questo può darmi una nuova professione per il mio futuro, perché quando andrò in inglese, posso ottenere molta esperienza da questo. Ciao, io sono Alex e sono uno studente del SIAF. Appena sono arrivato, ho subito notato la bellezza delle strutture, già a partire dalla reception, ma anche dalle camere, che sono molto spaziose. Sono Gabriel, essere un membro del campus SIAF mi ha permesso di approfondire determinati argomenti che non si possono effettuare a scuola o che comunque non vengono effettuati, e che quindi mi hanno concesso di imparare cose nuove. Sono Dario, la cosa che più mi ha affascinato di questo campus è sicuramente il paesaggio, a due passi da Volterra e anche la vista mozzafiato che si ha, soprattutto durante il tramonto. È sicuramente un punto a favore rispetto a tutti gli altri campus che ci sono in Inghilterra e in Italia. Ciao a tutti, sono Nicoletta. Io ho partecipato a questa vacanza studio perché mi piace socializzare con le persone e qua ho trovato magnifiche persone con cui riuscire a chiacchierare tutta la notte. Quindi è un'esperienza che propongo a molte persone. Ciao, sono Cristian. Essendo italiani non potevamo non menzionare il cibo, una struttura innovativa dal punto di vista della materia e anche della struttura in sé per sé. Anche il cibo qui è ottimo. Abbiamo anche avuto la possibilità di visitare Volterra e Siena, con delle visite guidate in lingua inglese da parte dell'insegnante che ci fa i corsi di inglese e quindi è stata anche un'unione tra innovazione e storia antica. Ciao, sono Gianluca. Sono stato molto colpito dall'unione del programma dell'inglese e del public speaking e dell'innovazione, quindi della programmazione con Arduino e del computer engineering. Sono Annie. Insegno inglese all'Innovation Learning Campus a Volterra, alla SIAF, dove tutti i giorni con i ragazzi parliamo in inglese. Io sono madrelingua e è un'esperienza full immersion. È un'esperienza che solitamente non si trova alla scuola, infatti, proprio perché facciamo varie attività parlando di vari contesti esclusivamente in inglese. Sono rimasta molto, molto impressionata dalla capacità dei ragazzi di attattarsi a questa realtà. Un complesso residenziale con un'area sportiva riservata all'uso esclusivo dei nostri clienti che permette di avere un'attività di svago pur essendo a pochi passi da Volterra dove rivolgere l'interesse culturale per i monumenti, per i musei e per quello che Volterra può offrire. E non dimentichiamo i 3.000 anni di storia documentati. Grazie a tutti.